Per il prossimo anno Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati saranno canonizzati ad annunciare la sorpresa stamane Papa Francesco al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Si è svolto oggi lo sciopero nazionale di medici, dirigenti sanitari, infermieri e altre professioni sanitarie. Si sono realizzati disagi negli ospedali di tutta Italia tra le principali richieste, maggiori risorse per finanziare i contratti di lavoro, una detassazione di parte della retribuzione e l'immediata assunzione di personale. Donne e ministeri nella chiesa sinodale. Su questa tematica si è svolto un dialogo aperto ieri in Vescovado con due delle teologhe che sono intervenute al Consiglio dei Nove Cardinali voluti dal Papa per aiutarlo nel governo della Chiesa Universale. Amici di Telepace, un cordiale saluto a voi tutti, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Lo abbiamo detto nei titoli di apertura. A sorpresa, questa mattina, Papa Francesco al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro ha annunciato che il prossimo anno, anno del Giubileo, Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati saranno canonizzati. E quindi vediamo il dettaglio di quanto detto nel corso dell'udienza generale da Papa Francesco partendo proprio dalle parole che ha utilizzato per dare questo particolare annuncio. L'anno prossimo, nella giornata dei bambini, degli adolescenti, canonizzero il beato Carlo Acutis. E nella giornata dei giovani, l'anno prossimo, canonizzero il beato Pier Giorgio Frassati. Questo è un annuncio a sorpresa pronunciato da Papa Francesco oggi durante il saluto ai fedeli di lingua italiana al termine dell'udienza in Piazza San Pietro. In precedenza aveva fatto sapere che il 3 febbraio si terrà in Vaticano un incontro mondiale dei diritti dei bambini dal titolo Amiamoli e proteggiamoli. Un'occasione per individuare nuove vie volte a soccorrere, proteggere, milioni di minori sfruttati, abusati e che subiscono le conseguenze drammatiche delle guerre. La Catechesi di oggi è stata incentrata sullo Spirito Santo e i carismi che donna ciascuno di noi. Il carisma, ha detto il Papa, è a una persona o una comunità speciale, è un dono che Dio ti dà. Aggiungendo abbraccio sulla scorta del Concilio, che il carisma è il dono dato per l'utilità comune, per essere utile a tutti. Non è in altre parole destinato principalmente e ordinariamente alla santificazione della persona, ma al servizio della comunità. Il carisma inoltre è il dono dato a uno o ad alcuni in particolare, non a tutti allo stesso modo, e questo è ciò che lo distingue dalla grazia santificante, dalle virtuti ologali e dai sacramenti che invece sono gli stessi comuni per tutti. A ciascuno la manifestazione dello Spirito è data perché torni a comune vantaggio. Il Papa ha quindi aggiunto Dobbiamo riscoprire il carisma, perché questo fa sì che la promozione del laicato, in particolare della donna, venga inteso non solo come un fatto istituzionale e sociologico, ma nella sua dimensione biblica e spirituale. Detto questo, un riferimento ai laici che, ha detto il Papa, non sono gli ultimi, non sono una specie di collaboratori esterni o delle truppe ausiliari del clero, ma hanno dei carismi e doni propri con cui contribuire alla missione della Chiesa. Nella giornata odierna sciopero nazionale dei medici, dirigenti sanitari, infermieri e le altre professioni sanitarie. Disagi ci sono stati negli ospedali di tutta Italia, tra le richieste principali, quella di avere maggiore risorse per finanziare i contratti di lavoro, una detassazione di parte della retribuzione e l'assunzione di personale e servizio. Lo sciopero di oggi è per difendere il sistema sanitario nazionale. Noi riteniamo che gli investimenti nella salute pubblica in questo momento non siano sufficienti e nonostante le promesse di tutto questo tempo, in questo momento ci ritroviamo ad avere scarsi investimenti sulle risorse che lavorano all'interno del sistema sanitario nazionale. Noi vogliamo che esso venga potenziato sia per gli operatori sanitari che all'interno lavorano, sia per quanto riguarda i cittadini che in questo momento subiscono dei disservizi dovuti proprio a questo progressivo disinvestimento. Il desiderio è che gli ospedali diventino luoghi sicuri sia per gli operatori sanitari sia per i pazienti, ben consapevoli che le aggressioni fisiche e verbali sono all'ordine del giorno, con le conseguenti denunce e gli operatori hanno sempre più difficoltà, dicono i sindacati, a lavorare in modo motivante all'interno del sistema sanitario. Sappiamo perfettamente che sia che per la situazione economica, ma soprattutto per le condizioni di lavoro, in questo momento c'è un grande malcontento e anche una demotivazione, tale per cui noi pensiamo che nel futuro saranno sempre meno i medici disposti a lavorare nel sistema sanitario. Sappiamo che i giovani vanno all'estero e sappiamo che ci sono molte dimissioni anche di medici esperti che hanno lavorato a lungo all'interno del sistema sanitario. Quindi ci fermiamo oggi perché non vogliamo fermarci per sempre. Ieri sera in Vescovado dialogo aperto sul tema donne e ministeri nella Chiesa Sinodale. Ce ne parla in questo servizio Marina Zerman. Cammino e ascolto sono le parole chiave di un percorso che la Chiesa affronta dando la parola alle donne. A intervenire ieri a Verona, accanto al Vescovo Pompili, due donne teologhe, Giulia Di Berardino e Suor Linda Poker, sul tema donne e ministeri nella Chiesa Sinodale, un dialogo aperto. Tanti passi ne hanno fatti le donne, prima di tutto, perché non è da ieri, ma sono molti anni che molte donne stanno facendo sentire la loro voce, stanno studiando, stanno scrivendo libri e si stanno impegnando per questo. E Papa Francesco ha aiutato molto perché ha proprio aperto delle porte che prima erano chiuse, ha dato degli incarichi all'interno della curia e questo sicuramente è stato un esempio virtuoso che in tante diocese è stato seguito e poi soprattutto ha creato degli spazi di ascolto. Lo scorso febbraio Giulia Di Berardino e Suor Linda Poker parlarono davanti al Consiglio dei Nove Cardinali sui temi come la posizione delle donne nella Chiesa e il possibile accesso ai ministeri ordinati, argomento attuale e spesso divisivo. Da quell'incontro nacque il secondo di una serie di libri con l'intervento anche di due cardinali che è stato presentato ieri nella serata moderata da Don Luca Passarini a cui intervenuta in video la vescova anglicana Jo Wells. Ci potrebbe essere un ministero ordinato per il servizio delle donne che già svolgono e c'è invece un ministero ordinato alla celebrazione liturgica che è specifico del sacerdozio. Quindi lì c'è tanto da discutere, è tutto un campo, un ambito da trovare dialogo, accordo e è un percorso da fare ancora. Lo sguardo femminile nella Chiesa cosa può dare? È molto e dà molto, dà molto, perché lo sguardo femminile è sempre quello più attento ai particolari, quello che mette in rilievo la cura e quindi è chiaro che è prezioso, però c'è già questo tocco femminile nella Chiesa. Personalmente credo molto nell'educazione e quindi penso che ad esempio l'insegnamento della teologia, che nel mio caso sia un ruolo chiave perché entra anche poi nella formazione ad esempio dei ministri ordinati. Ricordo a tutti voi gentili amici che questo incontro sarà trasmesso dalla nostra emittente a lunedì prossimo alle 20.30. C'è grande necessità di formazione per corrispondere alle richieste delle aziende e di conoscere il territorio facendo rete tra imprese, istituti scolastici e associazioni datoriali. A tre anni dall'elezione a presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Verona e a pochi giorni dall'elezione del nuovo presidente, Lucio Fasoli ha sentito per noi Valentina Gagliardo alla fine del suo mandato e ora eletta presidente del Comitato Provinciale per l'Orientamento Scolastico e Professionale di Verona. Il peso dei giovani imprenditori nell'economia oggi, specialmente a Verona, c'è una predilezione ai settori legati alla tecnologia e allo sviluppo del digitale ed un approccio diverso rispetto alla precedente generazione dimostrando coraggio, bisogno di confronto e un approccio maggiore ad allargare i confini, ma il sistema attuale è pronto a dare loro lo spazio di cui l'economia e l'industria hanno bisogno? Il sistema è pronto perché anche c'è sempre voglia e necessità di rinnovarsi, sappiamo che un'impresa può continuare a crescere ma anche un territorio solo se in qualche modo si rinnova e si adegua ai tempi. Lo spazio per i giovani c'è, c'è da fare un grande lavoro di coabitazione di generazioni, portare i valori dell'una e dell'altra a conoscenza in maniera che possano sviluppare progetti che abbiano un senso per il futuro. Ad oggi una difficoltà è quella di preparare i giovani in formazione ed inserirsi nel mondo lavorativo in modo adeguato rispetto all'offerta, che si aggiunge al problema del calo demografico. Nella discrepanza magari di richieste da parte delle aziende rispetto a quello che è il mercato del lavoro non è solo rispetto alla tipologia di figure ma è anche la tipologia di offerta. Le generazioni che stanno entrando nelle aziende adesso hanno dei valori diversi da quelli che magari la generazione precedente aveva rispetto alla flessibilità, rispetto al valore che al lavoro nella vita in senso generale. L'attività con COSP, Verona e TS ha a che fare con mettere in connessione e creare azioni specifiche per le scuole, dalle scuole medie alle scuole superiori, l'ITS e l'università, affinché i ragazzi siano ascoltati, siano ascoltati e vengano accompagnati nel loro percorso scolastico e poi dopo professionale, mettendo più che altro insieme tutte le informazioni che il territorio dà e aiutando anche i professori e i genitori a fare questo importante lavoro di accompagnamento perché non possiamo delegare a un'istituzione delle attività che magari non sono solo didattiche. Parliamo adesso del blocco del traffico a Verona. Da domani ci sarà una zona verde quindi si riapre la possibilità di circolare per le vetture diesel Euro 5 da Palazzo Barbieri ricordano che resteranno in vigore anche domani quindi il blocco di circolazione per i veicoli a benzina Euro 0,1 e diesel da Euro 0,4 oltre ai motocicli con certificato di circolazione rilasciato prima del 1 gennaio 2000. Sarà sempre consentita la circolazione a tutti i lavoratori che per distanze orari particolari di inizio e fine turno non possono utilizzare i mezzi pubblici. Questo sabato sarà inaugurato la nuova sede del Centro Aiuto alla Vita di Lugagnano a 10 anni dalla nascita di questo centro. Vediamo i dettagli in questo servizio. È in fase di sistemazione la nuova sede del Centro Aiuto Vita di Lugagnano in via Pelacane 11. Precedentemente il centro ha svolto il suo servizio per ben 10 anni altrove in un luogo a dimensioni più ridotte. Ora l'intento è quello di continuare qui i servizi di supporto donando cibo, vestiti ma soprattutto implementare l'ascolto. Che è il punto focale del Centro Aiuto Vita perché è vero che noi aiutiamo le mamme con dei pacchi alimentari, dei vestiti però il nostro punto importante è proprio l'ascolto con le nostre volontarie perché troviamo mamme che hanno bisogno di essere ascoltate, di consigli e quindi avevamo necessità di una sede. Sono attualmente una quarantina le donne che vengono ascoltate e supportate, principalmente straniere con più figli. In prospettiva l'intento è quello di coinvolgere anche i medici in pensione e i professionisti che possano offrire qualche semplice ma necessaria consulenza sanitaria di cui hanno bisogno le giovani mamme in povertà. Abbiamo mamme in gravidanza che ci chiamano e da lì le seguiamo per i primi tre anni. Abbiamo famiglie che hanno già i bambini nati, piccolissimi però vengono da noi. Magari si trovano nel bisogno e attraverso amici, consigli di amici oppure si rivolgono anche agli assistenti sociali dei vari comuni e i quali li mandano da noi. E sono cinque i comuni che fanno capo a questo centro aiuto vita, quello di Sona, Somma Campagna, Bussolengo, Pescantina e Pastrengo. C'è molta solidarietà, specialmente per l'abbigliamento, lettini, carrozzine e così. Il cibo invece dobbiamo comperarlo, ma siamo anche aiutati dall'emporio della solidarietà. Vi cercate sempre persone che possano sostenervi? Sempre, persone che possono sostenerci e comunque vediamo veramente una buona risposta. Nei vari comuni che serviamo vediamo una buona risposta. Ancora a tempo per un'ultima notizia. Domani pomeriggio il Vescovo di Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo, scioglierà il voto fatto alla Beata Vergine Maria della Salute il 12 marzo del 2020 durante il periodo iniziale della pandemia da Covid. Alle 15 di domani, partenza dalla Chiesa di San Silvestro a costa di Vittorio Veneto, una processione salirà al santuario dove alle 15.30 il Vescovo presiderà la messa nel corso della quale verrà espressa gratitudine a Maria, salute degli infermi, insieme alla richiesta della grazia di sapere ascoltare sempre il suo invito a fare ciò che Gesù insegna. È tutto per questo nostro spazio dedicato all'informazione. Grazie per la vostra attenzione. Buona serata. Grazie per la visione. Grazie per la visione.